Ci troviamo alla Cantera del Mare, il nuovo locale di Dario Coppola. Siamo alla ricerca di chicche, di chicche d'eccellenza, è un estrattore di 50 giri al minuto. Grande Riccio, guarda come si muove, guarda come si muove già, ha già capito? Bello denso, mezzo frullatello, bello, bello, Dio boss è buono, 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 guarda Ma che bello poi! Oh ma c'è un sapore pazzesco! Spalato!